E questo è il 28 di Scafati, con le scope stanno buttando l'acqua fuori, guardate signor sindaco Lui è un cittadino di Scafati, cosa ne pensate di questa cosa? Sanno rubati i soldi, un sindaco con tutto l'assessore di Giancarlo E chi è il sindaco? Aliberto Pasquale Aliberto Aliberto Vedete? Guardate un poco che fine abbiamo fatto Massimo Ranieri, Elisa Brava, brava, brava Una grande commerciante, ha le palle di dirlo Subito, subito Guardate la gente come devono fare per scendere dalle macchine Ma stiamo scherzando Oh, sta passata l'acqua in tasca Oh, sta, 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 sta Ssss Guardate la filigamma qua Guardate un poco, siamo in base dall'acqua Vi voglio far vedere Sì, è normale secondo voi Non è normale Non è normale Ma ma poveristi, non è così Noi da Napoli siamo venuti al 28 di scopo Al 28, ma non scopo Chi l'ha ragionato? Chi l'ha ragionato? Chi l'ha rimasperato? Chi l'ha rimasperato? Chi l'ha rimasperato? Chi l'ha detto che? Chi si pensita, no? No, dovrebbe avere ben altro che fare solo le feste Troppe feste, troppe feste Troppe feste, guardate qua, guardate, ho tutta questa casa sola Eh, questa bella, capra, capra, no? Guarda, tutto fa bene, mica, non l'ha purità Venti, fai un appello al sindaco No, 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 no Ah, va bene Vai, vai A perdo lo siste che ne ha cuore con la gamba No, 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 no E' questo tipo proprio a perdo Per la riperti, ippi Per la riperti, ippi Un po' lei A perdo sui per la neppi